Amici dello zaccolo duro Dite che c'è Suma qua dietro il cartello C'è Suma? Suma! Sarò dietro il cartello, vediamo Suma! Ci sei? Non c'è Suma, non c'è Suma Non c'è, stanno perché è sempre qua Fai video sempre da qua Buongiorno amici dello zaccolo duro Oggi è una sorpresa, siccome Come avrete capito sono a casa Spero che ne vengono il mio figlio in piscina Così faccio un po' di cose Allora ho detto, vabbè vi faccio il video da qua Che vi faccio fare due risate Ciao Cipstar Ah no, lui non dice ciao Cipstar Bene, saluto Cipstar perché lo trovate in descrizione Per quanto riguarda il Milan Ieri i Cuginassi hanno stravinto Sento già i lamentoni Hai visto? Noi abbiamo pareggiato, loro hanno fatto 5-0 Di qua, di là, ho capito? Però noi quando abbiamo giocato con loro Noi gli abbiamo fatto fare un tiro in porta Quindi, sai, ogni partita è a sé ragazzi Siamo andati a Salerno Il campo è difficile Allenatore nuovo, non sapevamo manco come giocavano Le partite sono ognuna a sé Ogni partita è a sé Non si può paragonare due partite Perché ogni partita è a sé Ieri hanno meritato di vincere Hanno giocato meglio E quindi hanno vinto E va bene così a me Adesso pensiamo a noi Che se noi vinciamo domani a Napoli Poi tutto il resto non conta Non conta Quindi noi dobbiamo pensare solo a noi Andare a fare una grande partita a Napoli La cosa principale è fare una grande partita Come dice giustamente Pioli Se fai una grande partita Hai più possibilità di vincere Come è normale che sia Perché è difficile che noi vinciamo di culo Qualche errore arbitrale a favore Diventa più difficile Per vincere dobbiamo fare una grande partita Quindi ci tocca fare una grande partita Oggi non so nemmeno chi gioca L'Udinese, la Lazio, la Roma Ah c'è Roma Atalanta C'è Roma Atalanta che comunque ci interessa Anzi a me non interessa Però a chi interessa per il quarto posto Potrebbe essere interessante Perché secondo me oggi la Roma vince Io ve lo dico Andatevelo a giocare su Chipstar Come ieri 1.18 l'Inter Meglio di un bot 18% facile L'ho fatto ieri Facilissimo Va bene ragazzuoli Per oggi poche cose Video velocissimo Ci vediamo domani Ovviamente per il video della mattina Post partita E a breve Probabilmente Tornerò A spingere il mio canale Che lo sto un po' trascurando Tornerò un po' a spingerlo Perché giustamente Mi seguite sempre E ve lo meritate Mettete un bel like Iscrivetevi Ci vediamo alla prossima Ciao ragazzi Ciao